Benvenuti agli amici e vicini di Cigiano e Tricasse. Helen Mirren, premio Oscar per The Queen, ha presentato in anteprima il nuovo film che la vede protagonista, Wonder White Bird, in un cinema di Tricasse in Puglia. Ho scelto di omaggiare questa terra che mi ha accolta con grande affetto e tanta gentilezza. Ogni volta che vado in un negozio ricevo un piccolo regalo. Arrivata alla premiere si avvicina i fan che la descrivono come una donna semplice e soprattutto gentile. Si potrebbe dire che questo film l'abbia scelta, è così? Ero perfetta per questo ruolo e penso che spesso ci dimentichiamo della gentilezza, vivendo in un mondo pieno di rabbia e competizione. La Mirren interpreta una donna alle prese col bullismo del nipote e per redimerlo racconta la storia della sua infanzia, perseguitata dai nazisti perché ebrea fu salvata proprio da un atto di gentilezza. Alla prima del film anche Raffaele Capperi scelto come testimonial perché affetto dalla sindrome di Tricasse in Puglia come il protagonista di Wonder. Le persone hanno detto che mi vedono, mi guardano perché magari mi conoscono tramite il social, magari mi avranno visto qualche apparizione in tv, mentre prima di espormi così tanto sui social, quando le persone mi guardavano hanno pensato al mio problema. Quindi questo cambio di prospettiva mi ha permesso di stare bene con me stesso e non farmi abbassare la tua stima. Quindi questo è il vero cambiamento.